domani una bella bella opportunità visto come siamo partiti in questo girone dove siamo arrivati dal quarto pot e dove erano un outsider è una cosa bellissima poter giocare domani la partita dove con vittoria passi in un girone dove è che era super difficile e credo che io le tengo molto cariño al Arsenal, credo che passi un momento molto lindo come mi carriera nel Arsenal e credo che tengo un lindo ricordo con la aficione e con la gente del club e credo che quando l'Arsena le ganava al Tottenham era una felicità tremenda e era come Londra stava tutto contento con che ganava l'Arsena